Siamo stati rapidi, precisi e diretti, onesti fino in fondo col Presidente della Repubblica a cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani di fronte all'indecoroso spettacolo teatrino della guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni. Milioni di italiani si staranno chiedendo a cosa serve votare se quelli che noi mandiamo a casa alle elezioni mi tornano dalla finestra con giochi di palazzo. Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni. Dovrebbe essere una bella parola in democrazia. Elezioni. La sovranità appartiene al popolo. Evidentemente chi ha paura del voto può scappare per un mese, per sei mesi, per un anno non può scappare all'infinito. Mi domando cosa possono offrire l'Italia. L'unico collante che ho intuito dalle dichiarazioni di questi giorni è l'odio nei confronti della Lega. In bocca al lupo a tutti e grazie per l'attenzione.